Allora Pietro, grandissimo inizio di stagione del Catanzaro, ti chiedo un voto da 1 a 10 sul vostro inizio di stagione secondo te e poi anche le emozioni che provi, perché non ne abbiamo poi più parlato, indossando la fascia di capitano. Allora, il voto secondo me è ancora troppo relativo dare un voto alla nostra stagione, però penso che per quello che abbiamo fatto siamo andati oltre le aspettative degli addetti ai lavori, perché comunque avendo fatto 21 punti e trovarci lì in quelle zone, in questo campionato, penso che all'inizio del campionato nessuno l'avrebbe detto, quindi sicuramente è un voto positivo. Per quanto riguarda le mie emozioni, io sono sempre quello di quando è arrivato a gennaio, due anni e mezzo fa, nel senso che ho sempre le stesse emozioni, ho sempre la stessa adrenalina di quando devo indossare la maglia e poi quest'anno la fascia, quindi la vivo con orgoglia, la vivo con la responsabilità che ho sempre avuto. Allora Pietro, sei ritornato in Serie B da capitano del Catanzaro, quindi un grande obiettivo raggiunto dal Catanzaro e da te. Personalmente il tuo rientro in questa categoria, come è stato? Come hai ritrovato la Serie B e tu come ti sei trovato in Serie B? Allora, io l'avevo giocato a Frosinone l'ultima volta prima di venire qua, ma la Serie B è sempre il solito campionato, un campionato più difficile secondo me sotto certi aspetti anche della Serie A, perché la Serie B non ha squadre dove dici tu la domenica sai che quella squadra vince perché è attrezzata per vincere, no, la Serie B tutti possono vincere con chiunque, è un campionato molto atletico, è diventato molto atletico, molto fisico, però è diventato anche molto organizzato, molto organizzato, ci sono squadre che quasi tutte le squadre ormai preparano le partite in tutte e due le fasi, quindi è un campionato abbastanza complicato. Pietro, non c'è da discutere delle sue qualità tecniche, lo sappiamo tutti, insomma sono eccelse, no? Qualche settimana fa il mister ha detto, parlando di te, si sta grandemente responsabilizzando, questa fascia di capitano l'ha grandemente responsabilizzato, allora ti chiedo, ti sta dando qualcosa in più il fatto di dover essere anche da guida per i compagni, magari molti dei quali sono giovani e quindi hanno necessità di qualcuno che in qualche modo li guidi anche in campo, no? Beh sì, il capitano deve dare sempre l'esempio, però penso che anche l'anno scorso, comunque quando sono arrivato ho cercato di dare il mio contributo per quello che può essere, tra virgolette, la mia esperienza, perché mi voglio reputare giovane ancora, a 31 anni mi voglio reputare giovane, anche se l'età non lo dice, però penso che sia quello, a parte poi il ruolo del campo, ma il ruolo principale è quello di far crescere i giovani, perché ne abbiamo parecchi e forti che secondo me non sono ancora entrati al 100% in questa squadra, perché sicuramente non è colpa loro, perché è un processo di crescita che gli va riconosciuto e sicuramente avranno loro il modo per poi poter dimostrare loro qualità, quindi io come altri miei compagni che siamo qui da parecchio tempo, dobbiamo stare vicino e dargli una mano, perché prima o poi secondo me possono esplodere, perché sono giocatori giovani, forti, che possono giocare secondo me in Serie A. E questo probabilmente si vede anche in campo. Ora ti chiedo questo, si sa che tu hai un rapporto molto particolare con De Zerbi, che è l'allenatore con cui ti sei trovato meglio, però adesso, insomma, Vivarini credo che occupi un posto importante anche nella tua carriera, ti ha in qualche maniera rilanciato, ti ha fortissimamente voluto, quando tu stavi vivendo un momento di difficoltà, ti ha dato la fascia di capitano, ti sta responsabilizzando tantissimo, allora ti chiedo appunto quanto secondo te devi a Vivarini e quanto in generale il Catanzaro debba a Vivarini, insomma il fatto che ha fatto lo scorso campionato così e stia facendo questo ottimo inizio di campionato. Ma io ricordo l'intervista che feci dopo la Reggiana l'anno scorso in Supercoppa, dove io avevo detto queste cose qua, l'avevo ringraziato, lui era accanto a me, avevamo fatto un'intervista insieme, io l'avevo ringraziato perché è stato anche lui, De Zerbi è stato il primo storicamente per il percorso, però dopo ho trovato lui che mi ha fatto rivivere come una seconda giovinezza, come se iniziassi a giocare a calcio dall'inizio, mi ha dato fiducia e io non posso che non ringraziarlo. E poi penso che anche la città di Catanzaro abbia già capito, perché sa l'importanza che ha questi allenatori insieme al suo staff, che hanno dato comunque una mentalità, hanno dato comunque un gioco, hanno dato comunque un'identità che al Catanzaro secondo me mancava, mancava da 20 anni, da 21 anni. Ora tutti i bambini, la gente per strada, hanno magliette del Catanzaro, hanno bandiere del Catanzaro, e tutto questo è nato grazie al suo arrivo a novembre dell'anno in cui poi è arrivato. Pietro, sabato intanto arriva un avversario rinfrancato, che insomma si rilanciano dopo due vittorie consecutive, che partita ti aspetti e poi all'occorrenza come ti trovi ad agire così da regista avanzato? Quest'anno abbiamo cambiato qualcosina sotto l'aspetto tattico, perché comunque la Serie B c'è molti più squadre organizzate, molti più squadre che comunque hanno il coraggio di fare come il Como, come sabato abbiamo trovato una squadra che fino alle prime 11 partite l'aveva fatto poche volte la Ternana, l'aveva fatto poche volte lo Spezia, che ci era venuto a prendere veramente forte uomo contro uomo, ma noi ci alleniamo per quello, noi dobbiamo sperare che le squadre vengano forte uomo contro uomo, perché noi ci alleniamo per superare quelle pressioni, per poi farli male, quindi se le squadre vengono a prestarci come hanno fatto i primi 20 minuti il Como, noi dobbiamo essere contenti di quello. Per quanto riguarda il Modelo, il Modelo è una squadra che quest'anno è partita per puntare in alto, è una società storica, una società forte, è una squadra che comunque ha 19 punti, che è lì, che non perde facilmente, è una squadra pratica, è una squadra che verrà qui e vorrà fare sicuramente la partita, ma noi giochiamo in casa e abbiamo voglia di dimenticare subito la sconfitta di Como. Giocate in casa, mancano un po' i tuoi gol in casa, insomma l'anno scorso ne hai fatti veramente tantissimi, anzi segnavi praticamente solo in casa, quest'anno stai segnando poco in casa, ma insomma è soltanto una questione di casualità, immagino che non vedi l'ora di sbloccarti davanti al Ceravolo e a proposito ti chiedo pure questo, da Catanzarese in parte l'hai già detto, impressionante quello che sta succedendo negli stati di tutta Italia dove gioca il Catanzaro, da Catanzarese vorrei un giudizio su questo. Guarda, io quando penso a quando sono arrivato, che dicevo all'intervista lì dove era la sede, avevo fatto l'intervista e dicevo che il mio obiettivo era il mio obiettivo, dentro di me c'era l'obiettivo, il sogno di rivedere Catanzaro e il Ceravolo come all'epoca fu quello di Braglia, dove praticamente in città non si capiva niente, si parlava solo del Catanzaro e piano piano questa cosa si è avverata, oggi ancora di più perché io ho in mente la trasferta di Genova che secondo me è stata, cioè io da calciatore l'avrei voluta vivere sugli spalti, per com'è stata bella, per com'è stata. Noi abbiamo il compito di alimentare questo entusiasmo perché nel calcio se le cose vanno male si tende a spegnere un po' questo fuoco, però la tifoseria dopo un 5-0 col Parma cantava come se avessimo vinto, sabato a com' uguale, quindi non può che fare piacere a me ma fa piacere sicuramente a tutti perché non si aspettavano che Catanzaro fosse realmente una piazza così. Per quanto riguarda, sì, sul fatto dei gol è normale che mi possa mancare il fatto di aver segnato in casa ma quest'anno l'unica cosa che non mi pesa proprio è il gol, cioè se io dovessi dire non segni però la squadra si salva o la squadra fa altro io metterò la firma oggi subito. E obiettivamente a questo proposito dove credi che possa arrivare questo Catanzaro? L'anno scorso chi aveva 21 punti dopo 11 partite era il Frosinone, mi ricordo il Frosinone l'avevo visto comunque c'era 20-21 punti che poi ha vinto il campionato ma parlare oggi di vincere il campionato o di poter puntare play-off è veramente riduttivo perché secondo me saranno squadre che alla fine nel girone di ritorno usciranno perché hanno valori, hanno giocatori importanti. Noi, il nostro segreto è quello di alimentare l'entusiasmo, di continuare a lavorare tatticamente come stiamo facendo, meglio perché dobbiamo fare meglio perché secondo me questa squadra ha tanti margini di miglioramento e poi di pensare partita per partita, partita per partita e cercare di poter vincere più partite possibili. Poi alla fine uno verso febbraio-marzo tirerà la riga e dirà quello che si potrà essere. Ti chiedo quanto ti ha dato fastidio infortunarti alla fine del ritiro e poi qual è stata secondo te la tua migliore prestazione? Se è Genova, se è quella a Bolzano, se è un'altra partita, non lo so. Ma guarda, ovviamente gli infortuni non è che fanno piacere, però fine ritiro lì ho avuto quell'imprevisto lì che poi mi ha condizionato diciamo fino a dopo Parma perché col Parma purtroppo avevo la febbre dal giorno prima e l'infortunio alla caviglia mi ha permesso di non fare il ritiro, di non fare le partite preparandosi alla partita. Sono rientrato con la Cremonese e poi dopo lì ho avuto pure lì un fastidio grande alla coscia però ho sempre voluto giocare perché fin quando non riesco a camminare con le mie gambe voglio giocare quindi ho fatto questo. Per quanto riguarda la mia partita migliore penso sia stata quella con la Sampdoria sia in fase di possesso che di non possesso che è stata quella dove dentro l'ospediatore mi prendono in giro e mi dicono non hai mai corso così in un anno e mezzo. grazie a tutti.